Calcestruzzi Casale, impresa di costruzione e movimento terra, specializzata anche nella fornitura di conglomerato cementizio e vituminoso. Calcestruzzi Casale SRL, Cervinara, via Cardito 10. Informazioni e contatti chiamandolo 0824 83 15 58 o scrivendo a eccasale at tin.it Buongiorno dallo stadio comunale di Prato alla Serra, siamo per assistere alla gara del campionato di eccellenza Girone B. Prima di ritorno ad affrontarsi saranno il San Tommaso di mister Ciccio Messina e il Cervinara di mister Pasquale Iuliano. Ha tutto pronto, guarda i propri collaboratori, aspetta partiti e il Cervinara a manovrare con Befi. Batte caro tenuto, tutto pronto. Rinvia la difesa del Cervinara su corta respinta di Stasi. Cioffi, tenta la sortita personale, palla verso Simone Cioffi, va al tiro, rete! Passa il Cervinara con Simone Cioffi. Cervinara 1, San Tommaso 0 all'undicesimo e 45 secondi, si sblocca il risultato. San Tommaso 0, Cervinara 1. Scotella al centro. Pareggia il San Tommaso. Al minuto 19. Il gol ci va il numero 6, Arseo. Marseo, Cuciniello, Trimarco, Baltiro, palla che lambisce il palo. Ancora Zerillo, batte il fallo laterale per Brogna. Tacco di Brogna, palla sul secondo palo. Non arriva Befi. Alza le mani, schema per il Cervinara. Vediamo di cosa si tratta. Secondo palo, Conti, esce. Rete per il Cervinara, uscita maldestra del portiere. Palla sui piedi di Fusco che la ripone in gol. Da qui a qualche secondo assisteremo a qualche sostituzione. Trimarco ha il problema di girarsi. Sbaglia la difesa del Cervinara. E Sabatino ripatisce in gol. Si impatta ancora una volta il risultato. Cervinara 2, San Tommaso 2. Cuciniello. Più Marella. Lungo linea, Conti, Trimarco contro Conti. Tira Trimarco. Batte gara tenuto. Addirittura palo diretto dal calcio d'angolo. Finisce così, signori. Dal stadio comunale di Prato la Serra, tra San Tommaso e Cervinara, finisce 2 a 2. Ne, c'è la via! Non Cervinara рын Vermont. Non Cervin